Graffiti Buster, progetto numero 25. Graffiti Buster è un progetto che vuole ripristinare ordine, pulizia e decoro nella città di Pavia tramite la rimozione di graffiti e tag sui muri cittadini, muri sia pubblici, del comune e di terzi, che privati. La squadra che si occuperà della pulizia sarà costituita sia da personale ASM che da volontari. Questo ovviamente ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza e sensibilizzarla anche nel futuro per avere ovviamente una città più pulita. Oltre a questo, parallelamente verranno anche organizzate delle attività a lato come ad esempio dei cleaning day, oltre ad attività che vedranno il coinvolgimento di scolaresche, studenti e anche artisti di strada. In ottica sempre di coinvolgimento della cittadinanza, la squadra potrà essere costituita anche da lavoratori nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, ovviamente che andranno ad aiutare le persone e le fasce più deboli della città.